Si chiude il cerchio attorno al blitz Samarkand, operato dalla polizia di Gela di Niscemi lo scorso 14 giugno. L'ultimo tassello mancante è stato bloccato all'aeroporto di Comiso. Si tratta di Emanuele Giovanni Di Stefano, 44 anni, sfuggito al blitz perché si trovava in Germania. Gli agenti lo hanno ammalettato subito dopo essere sceso dall'aereo che proveniva da Dortmund. Adesso è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Di Stefano è accusato di essere l'alterego di Emanuele Brancato, ritenuto il capo dell'organizzazione criminale dedito al confezionamento e al taglio di cocaina. Come si ricorderà, nell'ambito dell'operazione di martedì scorso, sono stati arrestati anche Giovanni Simone Alario, Diego e Giovanni Nastasi. Il gruppo per mesi è stato pedinato e intercettato dagli investigatori. Nell'ambito del blitz furono sequestrati anche diversi beni nella disponibilità di Emanuele Brancato, volto sconosciuto nel panorama giudiziario e soprannominato Jimmy per la sua prestanza fisica. Sotto chiave finirono beni mobili, tra i quali auto, polizze vita e conti correnti. In quell'occasione a Gela fu la prima volta che venne disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti di un indagato per stupefacenti. Brancato utilizzava schede telefoniche sospette intestate ad uno degli indagati. Inoltre, secondo quanto scoperto dalla polizia, lo stesso Brancato aveva installato apparecchiature atte ad impedire o a interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ai danni di uno pubblico ufficiale che stava esercitando le sue funzioni. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, la droga, soprattutto cocaina, veniva acquistata in Calabria e poi rivenduta nelle piazze di Gela. In gente, il giro d'affari scoperto. Grazie a tutti.